Perché oggi azzurra siamo col professore Daniele Trabucco al termine della presentazione del libro Dentro la Costituzione, in cui abbiamo parlato anche molto dell'importanza del linguaggio. Ma in questa epoca social, in cui tutto deve essere sfidi e le parole si concentrano in brevi sunti di parole, come sta evolvendo il linguaggio? Il linguaggio sta sempre di più diventando, i medievalisti lo chiamavano un flatus vocis, cioè una mera emissione di parole che acquistano spesso un significato minimale. I social dal mio punto di vista hanno determinato una semplificazione, un riduzionismo della bellezza e della ricchezza della parola che potrebbe descrivere la realtà, analizzarla nei suoi dettagli, nelle sue articolazioni, invece questa semplificazione, questo riduzionismo tende a vedere davvero il linguaggio come una mera emissione di parole finalizzata solo ed esclusivamente a captare l'attenzione, a trovare un consenso spesso effimero, spesso fine a se stesso. Ecco, noi dovremmo recuperare invece l'idea classica della parola, la parola che descrive l'essere. No, Parmenide nel De Natura dice è importante, necessario anzi che il dire e il pensare sia l'essere. Quindi recuperare la parola vuol dire recuperare anche uno sguardo nuovo, uno sguardo aperto, uno sguardo che tende verso la verità del linguaggio, della realtà e del mondo che di ruota attorno. E speriamo che ci sia un'evoluzione in questo senso, dai tempi come vediamo che stanno evolvendo, ci sarà un'ulteriore sintesi. Io credo che questo dipenda molto dal nostro modo di approcciarci, abbiamo bisogno di recuperare il sapere. Per fare questo dobbiamo superare il nozionismo della cultura attuale, della cultura spidi, per assumere invece un sapere olistico, un sapere sistematico, un sapere che scatta, Aristotele dice, dalla meraviglia davanti alle cose. Per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di approcciarci alla realtà e cambiando questo avremo anche un modo diverso di utilizzare il linguaggio e di rapportare il linguaggio a quella realtà che quotidianamente ci provoca. Grazie infinissima. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.